Questa sera il grande aspettato di coordinazione di Ardame FACE CAM! Beh, stasera sono proprio in sforza. Pronti? All'attacco! In scena allora. Allora, siamo sicuri che lo spettacolo sia completamente improvvisato. Vediamo cosa sanno fare questi improvvisatori. Allora, sei pronto? Sì, mi lascia, comincio io, che fanno? Buonasera, gentilissimi, signore e signori. Ti presento gli attori di questa sera per lo spettacolo. Cosa? Se non è improvvisato, ti ho scelto. Certo, signore, è completamente improvvisato. Siete pronti? Sì, faremo un grande spettacolo. Io mi sono letta sotto William Shakespeare. E allora ragazzi, facciamo la merda. Merda!